Abbiamo fatto questa iniziativa, siamo venuti qui ai Vigili del Fuoco perché in questi giorni con la nostra attività didattica abbiamo parlato appunto dei pompieri siamo venuti pure due anni fa, quindi questo è il gruppo dei bambini nuovi e giustamente i bambini affascinati dai pompieri chiedevano quando rifacciamo questa esperienza e abbiamo approfittato sempre con l'aiuto e la gentilezza e la cortesia dei Vigili del Fuoco di Siderio. Vigili Grazie a tutti Andiamo a salvare cagliurine I lattini sugli alberi Abbiamo una scala Con quella scala noi andiamo a prendere i lattini sugli alberi Quando si lasciano prendere? Sempre si lasciano prendere Gli uccellini Andiamo a prendere Qualche cagliorino dentro un pozzo Abbiamo preso Veramente Con cozza Con la corda Che adesso Angelo vi farà vedere Quando andiamo a prendere un gattino Un cagliorino cade in un pozzo Cosa facciamo a prendere? Non lo possiamo prendere Quindi chiamiamo i vincili del fuoco I vincili del fuoco che fanno? Arrivano con un sacco pieno di materiale Viene, guardate cosa c'è là Con lo spezzonico Uno si è fermo che non si stacca Ma che facciamo? Andiamo e facciamo un nodino Particolare Facciamo un nodino E lo mettiamo da parte Dopodiché Che facciamo altro? Prendiamo l'imbragatura Così E poi ci dobbiamo Ci dobbiamo stringere Perché se no cadiamo Ci dobbiamo stringere E li mettiamo qua Perché ci possono servire Per ogni venenza Quando mi serve te lo chiedo Papolini Bapini Dietro Dietro Guardate Guardate Siente che ci servono per altre esigenze Che ancora ora Non sto qua a piegare E' un cagnolino piccolino E mi porto il sacchetto Lo metto qua Avete visto? Qua metto il cagnolino piccolino Quando è un gattino piccolino Vedi qua E' bucato Così respira Mi metto il sacchettino qua E me lo voglio E quando è un cane grande Se è un cane grande Invece Porto questo qua Se è un cane grande Deve portare questo Sì Ora per esempio Devo salire uno di voi Non per forza Il cagnolino Può cadere con una persona Come facciamo? E questo lo sai come si chiama? Questo si chiama pannolone No pannolino E' più grande E' più grande quindi si chiama pannolone Guardate come lo mettiamo Guardate Se dobbiamo prendere una persona per esempio Vieni qua 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 Dove? Dove? E allora Ora come faccio? Bravo! 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 E' salito in città! Grazie 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 Ma secondo voi questa foto invece è tagliato il legno La carta La taglia sicura Il legno No Perché sta tagliando il legno Allora Oh Ah Allora 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 No! No! Mi curva che è? Si! Non so! Mi curva che è! Mi curva che è! E questo è un anio! Non so! No! Non so! Non so! Non so! Non so! No! No! un'altra roba in rafforzazione si la staglia si la staglia una staglia una staglia e una staglia una staglia una staglia una bomba una bomba no E noi che facciamo, usiamo il gas? No! Noi il gas non lo usiamo! E' un cuscino che serve per dormire! Buono! Ma a cosa serve? Si scompia e si scompia! Ora Peppe lo sta scompiando ma a cosa serve? A dormire! E' troppo duro! E' troppo duro! E se io salgo qua sopra lui mi alza! E' troppo grande! E' troppo grande! Prendi il libero! Prendi il libero! Secondo voi ci alza! Libero! Secondo meno! Proviamo! Non ce la fai più! Mamma mia! E' facile! Pr brengi, vedi? Pr Goldblank! Questo serve per me! Allora non ti ha! Ma che ringrazio! Guarda che ringrazio! Ecco che ringrazia! E' una gente che sa! E' una gente che vuole conosci! E' una gente che ha! E' una gente che vuole! E' una gente che vuole? E' una? E' una! Ogni tanto ci chiamano, a noi pompieri, che una di queste fa a fuoco, perché? Perché il po' diere fa ora non è a... E noi andiamo... E non ci sta a vincere... E andiamo a speppere... Il po' diere fa ora non è a... Il po' diere fa ora non è a... Non ci sia! Un'altra volta! Un'altra volta! Un'altra volta! Un'altra volta! Un'altra volta... I guanti! Ma come vede con i occhi? guarda guarda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Portiamo il soccorso a chi ci chieda aiuto. Portiamo il soccorso a chi ci chieda aiuto. Un giorno senza rischio per noi è non vissuto. Un giorno senza rischio per noi è non vissuto. Il pompo che è non vissuto. Il pompo che fa una non vissuto. Quando le fiamme avanzano. Quando le fiamme avanzano non abbiamo timore. Portiamo Santa Barbara dentro il nostro cuore. Il pompo che fa una non vissuto. Il pompo che fa una non vissuto. Glorioso, glorioso, bravo! Viva lì! 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 Grazie a tutti.